Squat Lunge Machine Si tratta di un attrezzo potente in grado di migliorare la funzionalità di tutto il corpo concentrato in modo particolare sull'articolazione dell'anca, del ginocchio e con opportuni esercizi del cingolo scapolo omerale Squat Piedi ben divaricati, ginocchia semiflesse impugnare le maniglie più basse e mantenendo diritta la schiena effettuare l'accosciata Esplodere poi nella piena estensione degli arti Squat Monolaterale Portando indietro una gamba, piede sulla barra posteriore effettuare la flessione sull'arto d'appoggio Un apposito sistema brevettato consente di isolare il lavoro su un braccio soltanto della macchina Affondi L'esercizio può essere effettuato sia con movimento continuo monolaterale sia alternando il passo delle due gambe Compiere un passo avanti, affondare e ritornare alla posizione di partenza Good morning Impugnando le maniglie più basse con le ginocchia semiflesse e la schiena ben diritta Flettere avanti il busto escludendo le gambe dal movimento Scrollate Piedi ben distanziati, ginocchia semiflesse Impugnare le maniglie più alte e senza piegare i gomiti Sollevare le spalle più in alto possibile Estensioni per i polpacci Rivolto all'attrezzo con i piedi leggermente indietro rispetto al baricentro Sollevarsi sulle punte Rimanere un secondo in contrazione E infine tornare alla posizione di partenza Sollevare le maniglie più alte e senza piegare i gomiti